Capitolo 24 Mentre mi vestivo, riandai col pensiero a quanto era accaduto la sera prima e mi chiesi se non fosse un sogno. Non mi sentii certa della realtà se non quando abbi rivisto il signor Rochester e debbi riudito dalle sue labbra, le sue parole d'amore e le promesse. Mi guardai nello specchio pettinandomi e mi accorsi che non ero più brutta. Un'espressione di vita e di speranza mi animava al volto. Pareva che i miei occhi avessero fissato la fonte della gioia e preso in prestito lo scintillio delle sue onde cristalline. Spesso avevo guardato contro voglia il mio padrone temendo che il mio aspetto gli spiacesse, ma ora ero certa di potergli offrire il viso senza temere che il suo amore si raffreddasse. Tolsci dall'armadio un vestito estivo semplice e chiaro e lo indossai. Mi pare che nessun abito mi fosse mai stato così bene perché non ne avevo portato mai nessuno con l'animo tanto esultante di felicità. Non mi sorprese quando scesi correndo nell'estibolo di vedere che una radiosa mattina di giugno splendeva dopo la burrasca della notte e di sentire attraverso l'invetriata aperta il respiro di una brezza fresca e fragrante. La natura doveva sorridermi gioconda ora che ero così felice. Una mendicante con un bimbo, pallidi e laceri tutti e due apparvero sul viale di occorsi a dar loro tutto quello che avevo nella borsa, tre o quattro scellini, tanti o pochi dovevano dividere il mio giubilo. Le cornacchie gracchiavano, gli altri uccelli cantavano, ma nulla era più lieto del mio cuore festante. Mi stupì, invece, che la signora Fairfax si voltasse a guardare dalla finestra con viso rattristato e mi chiedesse, senza guardarmi, «Signorina Eyre vuol venire a fare colazione?». Durante la colazione ella si mantenne fredda e riservata, ma io non potei rassicurarla. Spettava il signor Rochester dare una spiegazione e anche lei doveva attendere come attendevo io. Mangiai quel che potei e poi corsi appieno di sopra dove incontrai Adele che usciva dallo studio. «Dove vai? È l'ora della lezione». «Il signor Rochester mi ha detto di andare in camera mia». «E lui dov'è?» «Ladantro», mi rispose accennando alla stanza dalla quale era uscita. Vi entrai e, infatti, egli era là. «Venga a darmi il buongiorno», disse. Avanzai sorridendo e questa volta non ricevetti soltanto una parola fredda o tutt'al più una stretta di mano, ma un abbraccio e un bacio. Mi pareva naturale e bellissimo di essere amata e accarezzata da lui. «Jane, lei è fiorente, Gaia è bella», mi disse. «Veramente bella stamane. È questa la mia pallida e piccola silfide? È questo il mio granello di pepe? Questo visino allegro con le fossette nelle guance e le labbra rose e i capelli morbidi come la sete e gli occhi scuri e radiosi?» Io avevo gli occhi verdi, lettrice, ma devi scusare lo sbaglio perché per lui, suppongo, avevano cambiato colore. «Sì, sono io, Jane Eyre, signore». «Che sarà presto Jane Rochester», aggiunse egli. «Tra quattro settimane, Jane, non un giorno di più. Mi ascolta?» Lo ascoltavo, sì, ma non mi capacitavo ancora. Mi girava la testa. Il sentimento che quell'annuncio destò in me era qualche cosa di più forte della gioia, qualche cosa che colpiva e sbiguttiva. Forse, credo, era quasi paura. «Prima ero sita e ora è tutta pallida. Perché, Jane?» «Perché mi ha dato un nuovo nome, Jane Rochester». E suona così strano. «Sì, la signora Rochester», disse. «La giovane signora Rochester, la fidanzata di Fairfax Rochester». «Non potrà mai essere, signore. Non mi sembra probabile. Le creature umane non godono mai una felicità completa in questo mondo. Io non sono nata per avere un destino diverso dai miei simili. Immaginare che a me venga elargita una sorda tanto bella, e sognare ad occhi aperti, e credere a una fiaba, che io voglio e posso convertire in realtà. E comincerò oggi stesso. Questa mattina ho scritto a Londra il mio banchiere perché mi mandi certi gioielli che ha in custodia e che hanno sempre appartenuto alle signore di Thornfield. «Tra un giorno o due spero di poterglieli donare perché voglio circondarla di tutte le attenzioni, di tutti gli onori che accorderei alla figlia di un pari se fossi in procinto di sposarla. Oh, signore, non pensi ai gioielli. Non voglio sentirne parlare. I gioielli non sono fatti per Jane Eyre. Preferisco non averne. Le allaccerò io stesso attorno al collo una collana di diamanti e sulla fronte le metterò un diadema. Ci starà bene perché la natura ha impresso su questa fronte il marchio della nobiltà. Cingerò di braccialetti questi polsi delicati e arricchierò di anelli queste mani di fata. No, no, signore, pensi ad altro, parli d'altro, non mi tratti come se fossi una bellezza. Io sono la sua brutta governante quacchera. Lei è bella ai miei occhi, è bella come desidera il mio cuore, delicata ed eterea. Magra e insignificante vuol dire. Lei sogna, signore, o si burla di me. Per l'amor di Dio, non mi canzoni. Voglio che anche il mondo la riconosca bella. Continuò con un tono che non fece che accrescere il mio disagio perché sentivo che o voleva illudere se stesso o tentava di illudere me. Vestirò la mia Jane di raso e di trine, le metterò le rose nei capelli e coprirò questo capo adorato con un velo di inestimabile valore. E allora non mi riconoscerà più, signore. Non sarò più la sua Jane Eyre, ma una scimmia vestita da arlecchino, un corvo con le penne di pavone. Non so se mi meraviglierebbe di più di vedere lei, signor Rochester, camuffato da guitto, o me stessa in abito di corte. Io non dico che lei è bello, anche se l'amo molto, anzi, troppo per adularla, e perciò non mi aduli. Ma egli continuò sullo stesso tema senza curarsi del mio disagio. Oggi stesso la condurrò in carrozza a Milcott perché scelga qualche vestito. Le ho detto che ci sposeremo tra quattro settimane. Sarà una cerimonia discreta, senza pompa, nella chiesa qua vicino. Poi raggiungeremo subito Londra, dove ci fermeremo poco perché voglio condurre il mio tesoro nei paesi del sole, tra i vigneti di Francia e le pianure italiane. Ella dovrà vedere tutto quanto vi è di famoso nella storia antica e in quella moderna. Deve conoscere la vita delle grandi città ed imparare ad apprezzare se stessa nel paragone con le altre donne. Viaggerò? E con lei, signore? Soggiorneremo qualche tempo a Parigi, Roma, Napoli, a Firenze, Venezia, Vienna, tutti i paesi che ho percorsi. Voglio tornare a visitarli con lei. Ovunque io abbia posato il piede, anche lei lo poserà. Piccola Silfide, per dieci anni ho viaggiato all'Europa come pazzo. Odio, rabbia e disgusto erano i miei compagni. Ora rivisiterò quei luoghi. Rissanato e redento con un angelo al fianco per conforto. Risi nel sentirlo parlare così. Non sono un angelo, dissi, e non voglio esserlo finché non muoio. Voglio essere me stessa, signor Rochester. Non deve aspettarsi né pretendere di trovare in me nulla di celestiale perché rimarrebbe deluso, non meno di me, se cercassi in lei qualche cosa di divino. ciò che non faccio. Che cosa si aspetta di trovare in me? Per qualche tempo forse lei sarà come ora, ma per poco. Poi tornerà freddo, capriccioso e severo e dovrò darmi molta pena per riuscire a piacerle. Ma quando si sarà abituato a me forse mi vorrà di nuovo bene? Dico, mi vorrà bene e non mi amerà perché suppongo che il suo amore svaporerà in sei mesi o anche meno. Nei libri scritti dagli uomini ho notato che questo periodo è assegnato come limite massimo all'ardore dei mariti, ma come compagna e come amica spero che non diventerò mai sgradevole del tutto agli occhi del mio caro signore. Sgradevole? Non amarla più? Io le vorrò sempre bene, sempre la costringerò a riconoscere che non soltanto le voglio bene ma che l'amo di un amore sincero, fervido e costante. Lei non è forse capriccioso, signore? Con le donne che mi piacciono soltanto per il loro viso sono più perfido del diavolo, specie quando mi accorgo che non hanno né anima né cuore e quando senza saperlo offrono ai miei occhi lo spettacolo della loro volgarità, della loro insulsaggine, della loro imbecillità o peggio della loro malvagità. Ma quando incontro uno sguardo pure una lingua eloquente, un'anima di fuoco e un carattere che si piega senza rompersi, flessibile, forte, dolce e resistente, io sono sempre tenero e fedele. Ha mai fatto l'esperienza di un carattere simile, signore? Ha mai amato una donna come quella che ha descritto? L'amo ora, ma prima di me, ammesso che io rega il confronto con un modello così raro, non ho mai incontrato una donna che le stesse appare, Jane. Mi piace e mi domina anche quando sembra che sia lei a sottomettersi. Vi è nella sua persona una duttilità che mi seduce e quando accarezzo questa morbida matassa di seta provo nelle braccia un fremito che mi sale fino al cuore. Sono dominato, conquistato, ma l'influenza che subisco è inesprimibilmente dolce e la cattività la quale mi sottometto ha un fascino che non troverei in alcun trionfo. Perché sorride Jane? Che significa quell'espressione misteriosa, impenetrabile? Pensavo, signore, e mi scusi, perché il pensiero è stato involontario, pensavo a Bercole e Sansone e alle loro incantatrici. Ah, così piccola strega! Basta, signore, non vi è più saggezza nelle sue parole di quanta ve ne fosse negli atti di quei due che ho appena nominato. È probabile, però, che se fossero stati ammogliati la loro severità come mariti avrebbe offuscato il ricordo della loro tenerezza come innamorati e così ho paura che accadrà di lei. Vorrei sapere che cosa mi risponderebbe tra un anno se le chiedessi un favore che non le convenisse o non le piacesse soddisfare. Mi chieda qualche cosa ora, Jane, anche la più piccola cosa, perché desidero essere pregato. Subito, signore, ho già una domanda pronta. Parli, ma se mi guarda sorridendo in quel modo sarò costretto ad appagarla prima ancora di sapere che cosa si tratti e farò la figura dello sciocco. No, signore, perché io le chiedo solo questo. Non mandi a prendere i gioielli e non mi metta rose tra i capelli. Sarebbe lo stesso che guarnire di una trina d'oro il fazzoletto di tela che tieni in mano. Sarebbe lo stesso che ornare d'oro l'oro fino, lo so, la sua richiesta è appagata per il momento. Sospenderò l'ordine al mio banchiere, ma non ha proprio nulla da domandarmi. Per ora mi ha pregato soltanto di non farle un dono che le avevo offerto. Su via, si provi ancora. Allora, signore, abbia la cortesia di soddisfare la mia curiosità che riguarda una certa cosa sia fatta molto viva. Egli si turbò e disse in fretta Quale? Quale cosa? La curiosità può essere un pericolo. Sono contento di non aver promesso nulla. Non vi è nessun pericolo nell'accontentarmi, signore. Parli, Jane, ma preferirei che invece di farmi una domanda curiosa alla quale forse è legato un segreto lei mi chiedesse metà delle mie sostanze. Su via, re, a suero, che me ne farei di metà delle sue sostanze? Crede forse che io sia un usuraio ebreo in cerca di un buon investimento in terre? Mi basterebbe la sua confidenza, signore. Perché vuole negarmela quando mi dà il suo cuore? Sia la benvenuta, Jane, se vuole essere a parte di quelle confidenze che sono degne di lei, ma per carità non cerchi di caricarsi di un inutile fardello. Non desideri il veleno, non mi chieda un dono pericoloso. E perché no, signore? Mi ha appena detto quanto ami sentirsi soggiogato, quanto le piaccia di lasciarsi convincere. Non crede che farei bene approfittare di questa confessione per cercare di persuaderla con suppliche e blandizie persino con le lacrime e i rimproveri se occorre giusto per sperimentare il mio potere? La sfido a fare un simile esperimento. Se passerai limiti, se presumerai troppo il gioco sarà subito finito. Davvero, signore? Ci rinunzia presto. Ma perché ora è così scuro in viso? Quelle ciglia aggrottate sembrano anche più nere e la sua fronte mi ricorda una straordinaria immagine poetica che ho trovato in un libro. Un fosco cumulo di nubi. Sarà così una volta ammogliato, signore? E se lei sarà così una volta maritata, io come cristiano devo rinunziare al progetto di unirmi a uno spirito o a una salamandra. Ma che cosa voleva domandarmi? Folletto, su, me lo dica. Ora non è nemmeno più cortese, ma io amo più la rudezza dell'adulazione e preferisco essere un folletto anziché un angelo. Ecco che cosa volevo chiedere, perché si è dato tanto da fare per indurmi a credere che voleva sposare la signorina Ingram. Hai tutto qui? Ah, confesso che temevo di peggio, disse rasserenandosi e con un sorriso mi pose teneramente la mano sui capelli come se vedesse dileguarsi un pericolo. Credo di poterlo confessare, continuò, anche a rischio Jane di farla andare un po' in collera. Ho visto come prende fuoco quando è indignata. Ieri sera al chiaro di luna era tutta ardire quando imprecavo contro il destino ed asseriva ad essere mia uguale. A proposito, Jane, è stata lei la prima a fare l'offerta. Sì, sono stata io, ma torniamo al punto, per favore, la signorina Ingram. Ebbene, ho corteggiato la signorina Ingram perché volevo far innamorare lei, Jane. Volevo renderla innamorata di me pazzamente come io lo ero di lei e sapevo che la gelosia sarebbe stata la migliore alleata per giungere allo scopo. Magnifico, ma come la rimpicciolisce tutto questo. Ora lei ai miei occhi non è più grande del mio dito mignolo e una vergogna, uno scandalo che abbia agito così non si curava affatto dei sentimenti della signorina Ingram. Oh, i sentimenti di Blanche sono riassunti in uno solo, l'orgoglio e questo deve essere umiliato. Era gelosa Jane? Non ne parliamo, signor Rochester. D'arresto non è cosa che debba interessarla. Mi risponda sinceramente ancora una volta. È sicuro che la signorina Ingram non soffra per le disoneste illusinghe di cui lei l'ha circuita? Non si sentirà umiliata e abbandonata? No di certo. Non le ho detto che al contrario è stata lei a respingermi? La sua fiamma si raffreddò o meglio si estinse in un momento quando le dissero che non ero ricco. Lei ha un curioso modo di ragionare, signor Rochester. Ha una mente calcolatrice e temo che i suoi principi almeno su certe cose siano stravaganti. i miei principi non sono mai stati educati Jane e può darsi che per mancanza di cure si siano un po' guastati. Mi risponda seriamente posso accettare il grande bene che mi ha offerto senza temere che altri soffra le pene e le amarezze che io stessa ho conosciuto? Sì, lo può, mia cara. Nessun altro al mondo nutre per me un amore puro come il suo poiché io credo nel suo affetto Jane che è come un balsamo per l'animo mio. Premetti le labbra sulla mano che egli mi aveva posato sulla spalla. Lo amavo, sì, lo amavo molto, molto di più di quanto osassi confessare e di quanto si possa esprimere a parole. Mi chieda qualche altra cosa, disse egli. È una gioia per me essere pregato e cedere. Avevo già un'altra domanda pronta. Comunichi le sue intenzioni alla signora Ferfa fax, signore. Mi ha vista ieri sera nel vestibolo con lei ed è rimasta male. Le dia qualche spiegazione prima che io la riveda perché mi ha dolore ad essere mal giudicata da una così brava donna. Salga in camera e si metta il cappello, mi rispose. Vorrei condurla a Milcott questa mattina e mentre si prepara io informerò la signora. Chissà se pensa che la sua cara Jane sia perduta per amore. Penserà che io ho dimenticato la mia condizione e lei la sua, signor Rochester. Che condizione? Il suo posto gene nel mio cuore e guai a chi oserà offenderla ora o in avvenire. Vada adesso. Fui pronta in un momento e quando sentì il signor Rochester uscire dal salotto della vedova corsi giù dalle scale. La vecchia signora era stata interrotta durante la sua solita lettura delle sacre scritture come indicava la Bibbia ancora aperta sul tavolo e gli occhiali posati lì accanto. Ma per il momento sembrava aver dimenticato l'occupazione sospesa all'entrare del signor Rochester. Gli occhi fissi sulla parete esprimevano la meraviglia di uno spirito tranquillo che una notizia straordinaria è venuta a turbare. Vedendomi si alzò, fece uno sforzo per sorridere e mormorò confusamente qualche parola di congratulazione ma il sorriso si spense subito sulle sue labbra e la frase rimase incompleta. Si rimise gli occhiali, chiuse la Bibbia e allontanò la sedia dal tavolo. Sono così sorpresa, signorina Air cominciò, che non so quasi che cosa dire. Non ho sognato, è vero, qualche volta mi assopisco quando sto qui sola e mi figuro cose che non sono mai accadute. Spesso in quel dormivelia ho creduto di vedere mio marito che è morto da quindici anni e entrare e sedersi qui vicino a me e l'ho anche udito chiamarmi, Alice, come sole va a fare. Ma ora mi dica se è proprio vero che il signor Rochester le ha chiesto di sposarlo. Non si burli di me ma mi pare davvero che gli sia venuto qui cinque minuti fa e mi abbia detto che tra un mese lei sarà sua moglie. Ha detto anche a me la stessa cosa, risposi. Davvero? E lei gli crede e ha accettato? Sì, mi guardò sballordita. Non l'avrei mai creduto, è un uomo fiero, tutti i Rochester lo sono stati e suo padre almeno era attaccato al denaro. Anche lui del resto è sempre stato giudicato parsimonioso e vuole sposarla. Così mi ha detto. Ella mi esaminò quanto ero lunga e lei si nel suo sguardo che non trovava in me alcuna attrattiva capace di risolvere l'enigma. Non riesco a capire, riprese, ma deve essere vero poiché lo dice, però come si spieghi proprio non lo so. Si dice che in questi casi sia consigliabile una parità di censo e di beni e poi ci sono vent'anni di differenza tra lei, Jane e il signor Rochester, potrebbe quasi essere suo padre. Questo poi no, signora Fairfax, esclamai risentita, non sembra davvero mio padre, nessuno vedendoci insieme può sopporlo nemmeno per un momento. Il signor Rochester par giovane e lo è, come un uomo di venticinque anni. Ed è davvero per amore che vuole sposarla? Ero così irritata dalla sua freddezza e dal suo scetticismo che mi vennero le lacrime agli occhi. Mi rincresce di averla rattristata, continuò la vedova, ma è tanto giovane e conosce così poco gli uomini che volevo metterla in guardia. C'è un vecchio proverbio che dice non è tutt'oro quello che riluce e in questo caso temo che accadrà qualche cosa di molto diverso da ciò che lei e il signor Rochester si aspettano. «Perché sono forse un mostro?» dissi. «È forse impossibile che il signor Rochester nutra per me un affetto sincero?» «No, lei è una cara ragazza e si è anche fatta molto graziosa in questi ultimi tempi. Credo che il signor Rochester l'ami. Mi sono sempre accorta che aveva per lei una preferenza e qualche volta quella spiccata simpatia mi ha un po' impensierita, tanto che per il suo bene avrei voluto metterla in guardia, ma mi ripugnava di insinuare in lei non fosse che il sospetto del male. Sapevo che un simile avvertimento l'avrebbe urtata, forse offesa e inoltre la sua discrezione, la sua profonda modestia, il suo buonsenso mi assicuravano che avrebbe saputo difendersi da sé. Non posso dirle come sono rimasta ieri sera quando dopo averla cercata inutilmente in tutta la casa e sapendo che anche il signor Rochester era fuori l'ho vista rientrare con lui a mezzanotte. Beh, ora non ci pensi più la interruppi spazientita. Basta che tutto sia finito bene. Speriamolo che tutto finisca bene, disse Ella. Ma mi creda, lei non sarà mai troppo prudente. Cerchi di tenere il signor Rochester a una certa distanza e diffidi di se stessa quanto di lui, un gentiluomo del suo rango difficilmente sposa la propria governante. Stavo davvero per irritarmi quando per fortuna Adele entrò correndo. Oh, mi lasci venire a Milcott, mi lasci venire a Milcott, esclamò. Il signor Rochester non vuole, eppure c'è posto abbastanza nella carrozza nuova. Gli chiedo di lasciarmi venire, signorina. Certo, Adele, risposi e mi affrettai ad uscire felice di sottrarmi ai deprimenti consigli della vedova. La carrozza era pronta. Stava arrivando davanti all'ingresso e il signor Rochester passeggiava sul marciapiede seguito da pilota. Adele può venire con noi, non è vero, signore? Le ho detto di no, non voglio secature, voglio solo lei, signorina Air. La lasci venire, signor Rochester, la prego, sarebbe meglio. No, è un impiccio. Lo sguardo e il tono erano perentori e io lo fissai perplessa, ancora sotto la sgradevole impressione degli ammonimenti della signora Fairfax. Qualche cosa di incerto e di indefinito aveva offuscato le mie speranze e avevo quasi perduto la convinzione di poter esercitare su di lui la mia volontà. Stavo per ubbidire macchinalmente senza ulteriori rimostranze, ma nell'aiutarmi a salire in carrozza egli mi guardò. Che cosa c'è? mi disse. Dove è andata tutta la sua contentezza? Vuole davvero che la bambina venga con noi? Le rincresce tanto di lasciarla a casa? Sarei contenta che venisse, signore. Allora corri a prendere il cappello e torna qui con me una freccia, disse egli ad Adel. La piccina non se lo fece dire due volte e corse via. Dopotutto, rinunciare a un po' di intimità per una mattina non è poi un male irrimediabile, visto che tra poco reclamerò da lei pensieri, affetto e compagnia per tutta la vita. Adel, quando si fu arrampicata in carrozza, cominciò a baciarmi volendo dimostrare la sua gratitudine per la mia intercessione, ma fu subito relegata in un cantuccio al lato del signor Rochester. Allora cominciò a sporgere la testa per guardarmi, intimidita da un vicino così severo, al quale non osava rivolgere domande né comunicare le proprie impressioni. La lasci venire vicino a me, dissi. Lì le darà noia e da questa parte c'è più posto. Me la porse come se fosse stata un cucciolo. La manderò ugualmente in collegio, esclamò, ma sorrideva. Adel udì e chiese se sarebbe andata in collegio sans mademoiselle. Sì, le rispose egli, proprio sans mademoiselle, perché la conduco con me nella luna. Cercherò una caverna in una delle valli bianche intorno alle cime dei vulcani e là la signorina vivrà con me, sola con me. Ma non avrà nulla da mangiare e vuol fare la morire di fame? domandò Adel. Andrò a raccogliere manna per il pranzo e per la cena. Le pianure e le colline della luna sono tutte coperte di manna, Adel. Avrà freddo, come farà a scaldarsi? Oh, nella luna il fuoco esce dalle montagne. Quando avrà freddo la porterò in cima a una montagna e la poserò sull'orlo di un cratere. Oh, che li sarà mal, più confortabile e poi i suoi vestiti si consumeranno, come farà ad averne altri? Il signor Rochester si finse imbarazzato. Tu come faresti, Adel? disse. Lambicati un po' il cervello per trovare un espediente. Credi che una nuvola bianca o rosa potrebbe servire per farne un vestito? E da un pezzo d'arcobaleno non si potrebbe ricavare una bella sciarpa? Sta molto meglio dov'è, concluse Adel dopo aver riflettuto. e poi si annoirebbe a vivere sola con lei nella luna se fossi nella signorina non la consentirei a seguirla. Ma lei ha consentito, mi ha dato la sua parola. Come farete ad andare nella luna? Non ci sono strade che vi conducano, c'è soltanto l'aria e nessuno di voi due sa volare. Adel, guarda quel campo. Avevamo passato i cancelli di Thornfield e correvamo sulla bella strada di Milcott. La burrasca aveva fatto scomparire la polvere e le siepi e gli alberi rinfrescati dalla pioggia verdeggiavano ai due lati della via. In quel campo Adel passeggiavo una sera quindici giorni or sono la sera del giorno in cui mi hai aiutato a falciare il fieno nell'orto e siccome ero stanco mi sedetti sulla barriera a riposare. Mi tolsi di tasca un tacquino e la matita e cominciai a scrivere il racconto della disgrazia che mi è capitata tanto tempo fa e il desiderio di giorni migliori. Scrivevo in fretta benché cominciasse ad annotare quando qualcuno apparve sul sentiero e si fermò a pochi passi da me. Guardai quella figura che era piccina e con un velo sottile sulla testa. L'invitai ad avvicinarsi e subito mi venne davanti. A parole non ci dicemmo nulla ma io ho Lessi nei suoi occhi e lei nei miei ed ecco che cosa ci narrammo in quel muto colloquio. Era una fata e veniva dal paese delle Silfidi mi disse e il suo scopo era di farmi felice. Io dovevo lasciare il mondo e seguirle in un luogo solitario come la luna. Per esempio con la testa mi indicava la falce argentata che si alzava sopra i colli di Heille. Fu lei a raccontarmi che lassù c'erano caverne di alabastro e valli bianche dove si poteva abitare. Le dissi che l'avrei seguita volentieri ma le ricordai come hai fatto tu con me che non avevo ali per volare. Oh, rispose la fata non importa ecco un talismano che rimuoverà tutti gli ostacoli e mi porse un cerchietto d'oro. Mettilo al quarto dito della mano sinistra e io sarò tua e tu sarai mio. Lasceremo la terra e troveremo lassù il nostro paradiso. Così concluse la fata accennando di nuovo alla luna quell'anello Adel ora lo intasca sotto all'apparenza di una sterlina ma intendo trasformarlo di nuovo in un anello. Che c'entra la signorina in tutto questo? Non me ne importa della fata lei ha detto che voleva condurre la signora nella luna. La signorina è una fata rispose egli con un fare misterioso. Qui il mio frattaio da monire Adel di non dar retta a quella favola ed ella rivelando un fondo di genuino scetticismo francese accusò il signor Rochester d'essere un vrai mentor e dichiarò di non tenere in alcun conto i suoi conti perché il resto il ne aveva pa' de fe e come Emilianavet non si sarebbero mostrate a lui tanto meno per donargli un anello o per offrirgli di andare a vivere nella luna. L'ora che passamo a Milcott mi riuscì poco gradita il signor Rochester voleva che entrassi in un negozio di sete per scegliervi una mezza dozzina d'abiti io che non ne avevo alcuna voglia lo pregai di lasciarmi rimettere a un'altra volta quella scelta ma no dovetti ubbidire tutto quello che ottenni dopo molte suppliche fu di ridurre il numero dei vestiti da sei a due ma quei due giurò che li avrebbe scelti lui l'osservai preoccupata mentre con gli occhi frugava nel mucchio delle stoffe più vivaci al fine si decise per una morbida seta color ametista e per un raso color pesco ripresi nervosamente a parlargli sottovoce dicendogli che tanto valeva comprarmi un vestito d'oro e un cappello d'argento perché mai e poi mai avrei usato portare quelle stoffe dopo molto discutere poiché era irremovibile come un masso lo convinse a scegliere invece un sobrio vestito di raso nero e uno di seta grigio perla per il momento possono andare mi disse ma in seguito lei dovrà risplendere come un'aiola fiorita trassi un respiro di sollievo quando riuscì a farlo uscire prima dal negozio di seterie e poi da quello dell'orefice più mi faceva doni più il viso mi si copriva di rossore per il disagio o meglio l'umiliazione che provavo finalmente risalimo in carrozza mentre mi abbandonavo stanca e febbricitante sul sedile mi rammentai ad un tratto di ciò che in quel farraginoso susseguirsi diventi tristi e lieti avevo del tutto dimenticato cioè della lettera di mio zio john e era la signora ridde della sua intenzione di adottarmi e di nominarmi sua erede sarebbe un sollievo pensai poter disporre di un po' di denaro mio non posso sopportare di essere vestita come una bambola dal signor rochester e di vedermi inondata come Dana e da una pioggia d'oro non appena a casa scriverò madere dirò allo zio john che sto per meritarmi avessi anche solo la prospettiva di poter un giorno accrescere il patrimonio del signor rochester sopporterei più facilmente di essere per ora a suo carico alquanto sollevata da questa idea mi misi in esecuzione scrivendo a madera il giorno stesso osai incontrare di nuovo lo sguardo del mio padrone innamorato che cercava ostinatamente il mio benché io lo evitassi egli mi sorrise e mi parve che il suo sorriso somigliasse a quello che un sultano in un momento tenero e felice concede ad una schiava arricchita da suore e dalle sue gemme gli strinsi la mano che sempre cercava la mia e quando la lasciai libera era tutta arrossata dalla mia stretta appassionata non deve guardarmi così dissi e se continuo apporterò sino all'ultimo giorno i miei vecchi vestiti di low wood e mi sposerò con quest'abito di cotone lilla con la seta color perla può farsi una vestaglia e con il raso nero tutta una serie di panciotti egli rise strofinandosi le mani non è un piacere vederla e sentirla parlare esclamò com'è originale com'è piccante non cambierei questa ragazzina inglese per tutto il serraglio del gran turco con il suo tesoro di occhi di gazzella forme d'auri e tutto il resto quella allusione mi dispiacque e di nuovo risentita dissi non voglio davvero tenerle luogo di un serraglio e quindi non si immagini che io possa equivalerlo se a un debole per quel genere di donne corra senza indugio nel bazar di Istanbul e dedichi all'acquisto di un po' di schiave il denaro che sembra non sappia come impiegare qui e che cosa farebbe Jane mentre io sarei occupato a contrattare un po' di tonnellate di carne e un assortimento di occhi neri mi preparerai per partire come missionaria al fine di predicare la libertà a coloro che vivono schiavi come le ospiti del suarem per esempio mi introdurrei tra quelle donne e le inciterei alla rivolta e lei pascià a tre code in un baleno si troverebbe incatenato e non consentirei a scioglierla da quei lacci finché non avesse firmato uno statuto il più liberale che un despot abbia mai ideato non rifiuterei d'essere suo prigioniero Jane ma io non avrei misericordia signor Rochester specie se mi supplicasse guardandomi come fa ora uno sguardo simile mi rivelerebbe che qualunque statuto le facessi firmare con la forza il suo primo atto non appena libero sarebbe di violarne le condizioni ma Jane che cosa vuole da me temo che oltre il matrimonio celebrato all'altare lei mi voglia imporre un'altra cerimonia più privata vuole stipulare vedo speciali condizioni quali sono le chiedo soltanto ad avere la mente sgombra dai ricordi dalle convenzioni che invece l'affollano ricorda ciò che mi ha detto di Selim Varenne dai brillanti degli scialli che le regalava ebbene io non voglio essere la sua Selim Varenne inglese continuerò a fare da governante ad Adel così guadagnerò il vitto e l'alloggio e inoltre 30 sterline all'anno provvederò al mio guardaroba con quel denaro e lei non mi darà altro che altro che il suo affetto e se in cambio le do il mio saremo pari non c'è che dire quanto impudenza e orgoglio lei non ha l'eguale esclamò egli frattanto eravamo pressoché arrivati a Thornfield vuol pranzare con me oggi? mi chiese mentre varcavamo i cancelli del parco no grazie signore e perché no grazie se posso chiederlo non ho mai pranzato con lei signore non vedo perché dovrei farlo fino a quando fino a quando si diverte a parlare a metà fino a quando non potrò fare altrimenti crede che mangi come un orco per avere paura a tenermi compagnia a tavola? non suppongo nulla di simile signore ma desidero continuare come al solito per un altro mese lei smetterà subito di fare l'istitutrice le chiedo scusa signore ma non smetterò continuerò semplicemente come al solito le starò lontana tutto il giorno come sono abituata a fare e lei potrà farmi chiamare alla sera quando vorrà vedermi allora verrò ma non in un altro momento ho bisogno di fumare o di fiotare tabacco per farmi coraggio e pour me donner incontenance come direbbe Adele ma sfortunatamente non ho né l'astuccio dei sigari né la tabacchiera mi ascolti piccola tiranna ora è il suo momento ma dopo verrà il mio e quando mi sarò impadronito di lei per davvero e per sempre la legherò a una catena come questa e toccò la catena dell'orologio per modo di dire si intende sì piccola strega la terrò sul mio cuore come un gioiello inestimabile mi disse questo aiutandomi a scendere di carrozza e mentre poi prendeva in braccio Adele io raggiunsi il vestibolo e mi ritirai in camera mia non lo rividi più fino alla sera quando fui chiamata in sua presenza dopo cena e non prima come gli avevo chiesto avevo pronta per lui un'occupazione essendo decisa a non passare tutta la sera in un colloquio a due ricordavo che aveva una bella voce e sapevo che come tutti coloro che cantano bene si divertiva a cantare io invece non possedevo quella dote e nemmeno ero secondo il suo giudizio di critico imparziale una buona musicista ma mi piaceva molto ascoltare un po' di musica non appena il crepuscolo ora romantica cominciò a stendere il suo scuro velo stellato davanti alle invetriate ha perso il pianoforte e lo pregai di cantare mi rispose che ero un essere capriccioso e che avrebbe cantato un'altra sera ma io insistetti dicendogli che nessuna sera poteva essere più propizia le piace la mia voce mi domandò molto non amavo lusingare la sua vanità assai suscettibile a quel riguardo ma per una volta giudicai bene farlo allora Jane lei mi accompagnerò al pianoforte certo signore proverò mi sedetti davanti alla tastiera e trassi i primi accordi ma subito egli mi fece alzare dallo sgabello chiamandomi strimpellatrice dopo avermi spinta da parte senza cerimonie ed era proprio quello che volevo prese il mio posto e si accompagnò da sé perché oltre che cantare sapeva anche suonare bene io mi rifugiai nel vano della finestra e mentre lasciavo vagare lo sguardo sugli alberi immoti e sui prati bui dietro a me si levarono le note di una dolce canzone che diceva così l'amore più fedele che abbia infiammato un cuore spandeva in ogni mia vena l'onda della vita l'arrivo dell'amata era la mia speranza la sua partenza era la mia pena e che un giorno il suo passo potesse ritardare era un timore che tutto mi agghiacciava essere amato come io l'amavo era il mio sogno più ardente e vivo ed ogni sforzo mi pareva lieve pur di raggiungere tale felicità ma vasto impraticabile era lo spazio che ci divideva irto di rischi come le onde verdi e schiumose del grande oceano spiriti maligni lo popolavano come briganti nascosti nel folto potere, diritto odio e dolore ci dividevano sfidai il pericolo sprezzai gli ostacoli non prestai fede ai presentimenti e passai oltre le minacce e i moniti il mio arcobaleno sorse nel cielo io fui assorto in un sogno radioso tanto splendeva davanti ai miei occhi quel chiaro figlio della pioggia e del sole ancora brilla sulle nubi scure questa mia gioia dolce e solenne poco mi turba l'approssimarsi da altre sventure da altri dolori io non le temo in questo istante anche se tutto ciò che ho scacciato può ritornare su ali robuste per minacciare nuove vendette l'odio orgoglioso potrà colpirmi oppormi il diritto alte barriere e il torbo potere con sguardo irato proclamare ancora eterna inimicizia ma la mia amata con nobile fede nella mia mano apposto la sua ed ha giurato che una sacra unione deve intrecciare le nostre esistenze e l'ha giurato col sugello d'un bacio con me di vivere e di morire ho dunque al fine la felicità poiché come amo così sono amato la canzone era finita ed egli si alzò e mi si avvicinò vidi sul suo volto acceso un'espressione tenera e appassionata ed una fiamma ardente nei suoi occhi di falco per un momento temetti di cedere poi mi ripresi non volevo scene sentimentali né dichiarazioni audacie invece ne ero proprio minacciata dovevo preparare un'arma di difesa affilai la lingua e quando mi fu accanto gli chiesi con asprezza chi volesse sposare è una strana domanda in bocca la mia cara Jane ah sì a me par molto naturale e necessaria ha parlato della sua futura moglie che sarebbe morta con lei signor Rochester che cosa significa una frase simile io non ho alcuna intenzione di morire con lei può esserne certo ma tutto ciò che desidero tutto quanto chiedo è che lei Jane viva con me la morte non è per le creature come lei certo che lo è ho quanto lei il diritto di morire quando sarà il mio momento ma aspetterò senza fretta che quel momento venga non voglio anticiparlo mi vuol perdonare per questo egoistico pensiero e sugillare il perdono con un bacio no preferirai essere scusata allora mi chiamò cattiva creatura poi aggiunse che qualunque altra donna si sarebbe sciolta in lacrime di tenerezza sentendo cantare così le proprie lodi lo assicurai che infatti ero molto dura e inflessibile e che spesso mi avrebbe trovata tale inoltre desideravo mostrargli tutti i lati bizzarri del mio carattere prima che fossero trascorse quelle quattro settimane affinché si rendesse pienamente conto della scelta fatta mentre era ancora in tempo a ritirarsi vuole calmarsi ed essere ragionevole sì starò quieta se le fa piacere quanto all'essere ragionevole mi illusingo di esserlo stata fino ad ora egli mi lanciò un'occhiata spazientita benissimo pensai sbuffi e si indigni pure ma sono certa che questo è il miglior sistema da adottare con lui io l'amo più di quanto possa dire ma non voglio cadere in un eccesso di sentimentalismo e con la sprezza delle mie risposte terrò lontano anche lui dal precipizio inoltre serberò tra noi una distanza molto utile ad entrambi a poco a poco riuscì a farlo veramente andare in collera e quando esasperato egli si ritirò nell'angolo opposto della stanza mi alzai e dissi col solito tono rispettoso le auguro la buonanotte signore e me la svinnai seguì questo sistema per tutte le quattro settimane di attesa e con ottimo esito naturalmente ciò lo rendeva irritabile di cattivo umore ma mi accorgevo che in fondo quel mio modo di fare non gli dispiaceva e che una sottomissione da agnellino una dolcezza da tortora oltre che stimolare le sue tendenze al dispotismo non gli sarebbero andate altrettanto a genio né avrebbero altrettanto soddisfatto il suo criterio e il suo buonsenso in presenza di altre persone ero come prima deferente e taciturna perché una condotta diversa sarebbe stata reprensibile ma nei nostri colloqui serali lo tormentavo e lo affliggevo egli continuava a farmi chiamare non appena l'orologio batteva alle sette ma quando comparivo non mi accoglieva più con dolci parole come amore e diletta le espressioni migliori che mi rivolgeva erano bambola provocante folletto capriccioso spirito incostante e così via invece di carezze ricevevo smorfie invece di strette di mano pizzicotti nel braccio e invece di un bacio sulla guancia tiratine d'orecchi ma così andava bene per il momento preferivo di gran lunga quegli sgarbi alle tenerezze vedevo che la signora Fairfax mi approvava e che le sue preoccupazioni a mio riguardo erano svanite e ciò era per me la miglior prova della saggezza del mio modo di agire ogni tanto il signor Rochester affermava che era stanco e stufo e minacciava atroci vendette in un futuro ormai vicino e io ridevo di sottecchia quelle minacce se riesco ora ad impogli di essere ragionevole pensavo e sarò capace anche dopo e se un sistema perderà la propria efficacia ne troverò un altro tuttavia il mio compito non era facile spesso avrei preferito compiacerlo anziché irritarlo il mio futuro marito stava diventando per me tutto il mio mondo e di più ancora quasi la mia speranza nell'eternità egli si era frapposto tra me e ogni pensiero religioso esattamente come un'eclisse che oscura l'uomo la vista del sole non sapevo in quei giorni vedere Dio nella sua creatura perché di quella creatura avevo fatto un idolo che si tratta di un'eclisse che si tratta di un'eclisse che si tratta di un'eclisse in un'eclisse suficial eligibility